Non prenderono più salite impervie, ma sicuramente si faranno sentire il loro peso sulle gambe dei corridoi. Ecco in terza posizione Thomas Benedetti, noi ora ci lanciamo all'inseguimento di Laurence Padrani che ha già oltrepassato Poggio Berni, sta per giungere nuovamente a Trebbio e noi lo anticipiamo, andiamo all'arrivo dove vincerà impiegando un tempo buono considerando il percorso. Per lui il cronometro segna 46 minuti e 26 secondi, a seconda posta Denis Pianini del Villa Verucchio 47-49, poi Thomas Benedetti e Romagna Rani in 48-16, quindi nell'ordine Roberto Torgetti, il gruppo Bovischino con San Marino, poi Vannoni, Stefano Casadei, Valerio Vincenzi e Romano Montanari. Le donne in quest'ordine Arianna Landi, Ole Citriniti, Orietta Ambrosiani, Maria Fabri e Anna Maria Canarecci. E adesso sentiamo gli organizzatori, siamo il presidente Maurizio Casadei e il dirigente Goffredo dell'Aquila. Ecco, al terzo anno di attività l'Olimpia Nuovo Running organizza la sua prima gara. Per quest'anno una non competitiva, però ha presentato un percorso degno di una buonissima competitiva. I concorrenti non si sono lamentati della durezza, sì, hanno detto che è un po' duro, però il percorso è piaciuto veramente a tutti. Sì, siamo rimasti molto contenti del commento di tutti quelli che hanno preso parte a questa manifestazione, perché noi avevamo paura della pesantezza, della durezza del percorso, visto che Poggio Berni, come avevo detto già in precedenza, cresce e nasce su una collina, e quindi erano inevitabili le salite e discese, però diciamo che sono rimasti tutti molto contenti del percorso. L'unica cosa che ha pagato, anche sull'aspetto competitivo, tra virgolette, è il caldo, che è inevitabile a giugno non avere un po' di sole e di caldo. Però siamo rimasti molto contenti di aver portato una buona nuova manifestazione sul calendario podistico romagnolo. Io voglio ringraziare tutti i miei amici, compagni, soci della società che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e soprattutto tutti gli sponsor. Sono tantissimi da elencare. La plastica adriatica, l'IGF, l'art in fischi, il personal zucchero, tantissime. Ringrazio tutti, ringrazio il comune, ringrazio i dirigenti del centro sportivo che hanno collaborato e rinnovo l'invito al prossimo anno, sperando di portare anche un po' più di fresco. Ci provvederemo, ma sarà dura. Forse bisognerà cambiare data per avere più fresco. Ecco, Olimpia Nova Running ha le prime armi, ma non è così per Goffredo dell'Aquila, da anni sulla breccia invece è un dirigente dell'Olimpia Nova Running. Goffredo, nonostante fosse una non competitiva, siete riusciti a portare un gruppo di atleti sicuramente validi. Basta dire il nome del vincitore, Lauren Squadrani. Sì, siamo contenti anche dell'aspetto agonistico della gara, anche se in realtà ufficialmente non lo era, proprio perché abbiamo visto che molti amici, molti atleti competitivi hanno voluto fare questa gara, l'hanno tirata, non l'hanno passeggiata e si è visto anche dei tempi che sono molto buoni rispetto alla lunghezza e alla durezza della gara. Ci tengo a ringraziare anche Aldo Canini, tra tutti i dirigenti del Romagnolo e tra quelli che più hanno voluto e hanno avuto fiducia in noi, speriamo di averla ripagata. Il prossimo anno forse qualcosetta l'accorceremo, però il percorso, aspettatevi quello, diciamo, non sarà possibile addolcirlo più di tanto. Ecco, abbiamo visto il percorso, la salita specialmente, che si fa sempre più dura mano a mano che si va verso il culmine. Ecco, ho sentito, almeno alcune voci, voi siete propensi a togliere proprio gli ultimi 50 metri oppure, come spettacolarità, direi che andrebbero lasciate. Sì, infatti ci sono dei pezzi che secondo noi è un peccato togliere, tipo la salita alla chiesa di Trebbio, che secondo noi è molto bella, sull'erba, con degli squarci panoramici veramente belli, insomma. Quindi quella pensiamo di non togliere. Potremmo togliere qualcosina nel tornare giù, quindi la seconda entrata dentro il paese di Trebbio, che è molto caratteristico, in disceso possiamo evitarla. Diciamo che grossomodo abbiamo intenzione di limarla un attimino, le salite sarà difficile farla, perché chiaramente facendo una gara a Polgioberni non possiamo non passare in centro a Polgioberni, davanti al comune di Polgioberni, che ci dà poi una grossa mano a organizzare questa gara. Quindi la partenza arriva sicuramente e sarà qui, anche il prossimo anno contiamo di farla leggermente più corte, in modo che sia meno duro, poi per chi ha la cortezza di venire e ci fa il piacere di venire. Direi anche che il percorso, per quel che riguarda almeno una buona parte, è un percorso inedito, cioè non c'è mai passata nessuna gara ciclistica, almeno nessuna gara podistica, per quel che mi ricordo. Sì, sì, molti anni fa c'era qualche gara podistica del calendario estivo, che si faceva in alto a Polgioberni, ma sicuramente la parte di Trebbio, la chiesa, il gruppo di case di Trebbio, nessuno ci ha mai passato su una gara podistica. Tra l'altro la cosa a sentire molto, il pezzo più duro è stato l'ultimo chilometro in pianura, stranamente, non proprio perché era forse quello più al sole, al caldo, con l'ora più tarda, invece gli altri pezzi ogni tanto c'era l'ombra, quindi sono stati digeriti abbastanza bene. Ci sono delle variabili da fare, le studieremo per carità, perché siamo podisti prima che organizzatori, quindi se possiamo alleviare un po' le fatiche dei concorrenti, bene, però la gara secondo noi è molto bella, è chiaro che viene in un mese in cui è difficile, è in un luogo in cui per forza bisogna aspettarsi delle salite, diciamo, però abbiamo un'ottima pista ciclabile fatta dal comune che possiamo sfruttare anche diversamente. Ci studiamo su per la prossima edizione, anzi diamo fin d'ora appuntamento per la prossima edizione che sarà l'ultima domenica di giugno del prossimo anno. Quindi una data che non si cambia? Io penso di no, adesso il calendario romagnolo quest'anno ha avuto molti ingressi nuovi, quindi ha avuto qualche novità, c'è qualche altra novità in annuncio anche per il prossimo anno che non sveliamo, però penso che questa data rimanga questa, a meno che non si libri qualcosa a settembre-ottobre, allora logicamente volentieri la prenderemo, insomma. Per ora è giugno. Ecco, per quel che riguarda invece l'aspetto societario, come va? Quanti siete? Sta aumentando il gruppo dei podisti che avete? So che parecchi di questi poi tra l'altro sono competitivi. Sì, diciamo che il livello della società è sempre rimasto costante negli anni come competitività, come forza siamo cresciuti, nel senso che siamo 28 da 20 che eravamo partiti e il prossimo anno, in base alle statistiche, pensiamo di crescere ancora un pochettino, dico così perché comunque si è avvicinata nell'ultimo periodo a altra gente, noi siamo contenti di questo, è normale, più si cresce, più ci sono impegni, più c'è un giro più largo di cose da fare, però io dico sempre una mano lava l'altra e quindi bene o male ci aiutiamo a vicenda e facciamo fronte e riusciamo a organizzare a mio avviso anche una manifestazione del genere ben da podista, ben fatta nel senso con un buon ristoro, con dei buoni servizi, una buona assistenza. E ormai siamo a luglio, arriva la Notte Rosa e immancabilmente, puntualmente direi, arriva anche la Rimi San Marino, ce ne parla Johnny Schieratura. E tutto è pronto per la Notte Rosa che impazzerà in Riviera e oltre alla grande festa in Riviera ci sarà anche una festa sportiva che è la Corsa Rosa da Rimini e Verucchio, sarà la ventottesima classica dei castelli maletestiani, Rimini e Verucchio e ricordiamo che è anche il dodicesimo Memorial Fausto Martignoni, colui che ha ideato la manifestazione. Sarà una grande festa, già da tempo ci sono tanti iscritti da tutte le parti d'Italia, anche dall'estero, quindi sarà una festa nella festa, ci saranno tanti ristori, noi pensiamo a tutte le opzioni, se sarà caldo saremo pronti con tanti ristori disseminati sul percorso. Il percorso è collaudato, è classico, quindi la partenza ore 18 in Piazza Tremateri e l'arrivo nella caratteristica Piazza Battaglini a Verucchio dove poi ci sarà il pastaparti, il ristoro con tante cosine buone per rifocillare gli atleti e tante novità che poi scopriranno arrivando su. Cosa nella cosa, quest'anno c'è la possibilità di fare anche un'escursione da Rimini a Verucchio, camminando, con un piccolo contributo riceveranno un pacco rosa con la maglietta ufficiale della Rimini e Verucchio 2011 e il cappellino della manifestazione. I più fortunati poi entreranno anche in premiazioni, le iscrizioni chiudono mezz'ora prima della partenza, quindi alle ore 18 ci si può iscrivere fino al giorno della gara. Tanti protagonisti, in gara i vincitori dell'anno scorso, non diciamo i nomi, lo sanno tutti, comunque diciamolo, Fausta Borghini e Lauren Squadrani che oltre che vincitori sono anche i coniugi e quindi i coniugi di Rosa saranno il via e vedremo se riusciranno a rinconfermare il successo del 2010. Quindi cosa nella cosa, giovedì 30, il giovedì precedente alla manifestazione ci sarà la conferenza stampa alle ore 12 al ristorante Casa Colonica e poi sveleremo anche tutti gli altri nomi dei partecipanti e pubblicheremo sul sito anche la stat list di tutti i partecipanti che come dicevo prima sono tanti provenienti a tutta Italia, quindi una classica che regge nonostante il caldo è la gara in linea sulla distanza di mezza maratona più vecchia della Romagna, è l'unica che è rimasta gara in linea e sappiamo cosa comporta l'organizzazione, sappiamo cosa comporta il trasporto degli indumenti e delle borse di atleti all'arrivo, sappiamo cosa comporta la viabilità però come gli altri anni siamo pronti, abbiamo studiato varie soluzioni, varie cose per dare un servizio maggiore a tutti i partecipanti in modo che sia una festa nella festa, la festa della Notte Rosa, la festa della Corsa Rosa e la Rimi di Verrucchio. L'appuntamento è sabato 2 luglio, questo qui ormai è scontato, quindi vi aspettiamo ancora di più.